Ci siamo? E con questa vi salutiamo davvero ragazzi, è stato bellissimo! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! E' una vita che provate a fine settembre, ma non fate bene, è più forte di me! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ora ragazzi è arrivata la fine di tutto questo, quasi. Ciao a tutti. Vi lasciamo al 17 di tempo. È stato bello ragazzi. Ciao. Alla prossima è organizzato un altro raduno, cazzo, che si volerà sempre. Grazie alle MMB, grazie a Goma, grazie ai Botanici, grazie a In Disagio, a Disagio Wave e grazie a tutti voi. Ciao ragazzi. Un ritorno alle vostre glase. Nord, Sud e Centro. Un ritorno alle vostre glasee. Un ritorno alle vostre glasee. Un ritorno alle vostre glasee. Grazie.